ciao ragazzi manca mezz'ora all'ingresso del parco chiuso per il ritiro della moto e poi finalmente si parte per questa prima dakar mi sto ripassando tutte le informazioni sul rtf visto che ci sono un sacco di novità e in culo alla balena matti 5 albi buongiorno a tutti ormai ci siamo siamo alla partenza da dakar sempre una grande emozione la notte prima la senti sempre anche se qualche anno ormai che la faccio ma si fa sentire cosa dire speriamo che sia una bella ventura 15 giorni e l'obiettivo come ho già detto per me arrivare in fondo perché si sa che quando lì in fondo è già un grande obiettivo dopo vedremo giorno dopo giorno dove cosa si potrà fare bocca al lupo matti 5 ma finalmente è arrivato l'ora fatidica giornata l'emozione inizia a far si sentire infatti stanotte abbiamo dormicchiato diciamo i pensieri delle dune sono già il primo impatto abbastanza forte comunque dai tempo è ottimo non c'è il sole per ora clima ideale siamo un bel gruppo vedo che iniziano a scaldarsi un po tutti un bocca al lupo a tutti gli altri fatti cinque libio